La squadra Under-14 femminile dell'Hockey Club Riva è campione d'Italia. Dopo la delusione dell'anno scorso, con la sconfitta in finale contro l'HC Lorenzoni di Bra, le ragazze rivane hanno trovato nell'ultimo fine settimana la tanto sperata rivincita, superando le coetanee piemontesi in una bellissima finale per 2-0. Sul sintetico di Padova, dal 12 al 14 maggio, è andata in scena la Final 8 prima tappa di un ciclo di finali che vede la società di Riva del Garda impegnata anche a Roma con la Under-14 maschile e a Genova con la Under-12 maschile. E questa serie di eventi non poteva iniziare meglio con la vittoria delle ragazze di Riva del Garda davanti all'elite dell'Hockey giovanile al femminile, trofeo impreziosito dal premio individuale come miglior giocatrice assegnato a Carlotta Travaglia.